Grazie mille, anche da Bufocca dico sinceramente che è un grande piacere essere qui oggi in questa bellissima piazza, stiamo aspettando il nostro segretario federale che come al solito non ha fatto mancare il suo appoggio e quindi vi chiedo un grandissimo applauso per il finitore di trastitura Matteo Selvini! Non straordinario, Ufal Memestè, ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve sbloccare i cantieri bloccati il panettiere fa il pane, il gelataio fa il gelato e l'insegnante insegna nella speranza che in classe ci sia gente che rispetta l'insegnante e su questo devo dire che il nuovo ministro della scuola ha chiarito le regole si rispettano gli insegnanti e qua faccio un po' il papà perché vedere quelli che sparano a pallini e poi lo mettono anche in rete insomma c'è qualcosa da sistemare, il rispetto non lo puoi mettere per decreto il rispetto dovrebbe partire da casa, da mamma e papà perché ai miei tempi quando andavo alle medie e portavo a casa la notte, quando andavo al liceo e riempivo i libretti di giustificazioni facendo la firma di mio padre anche se non ero ancora maggiorenne, quando mi ha beccato ho passato dei quarti d'ora non particolarmente felici e non era colpa della maestra, del prof o del preside quindi anche qua io spero che ci siano mamme e papà che ogni tanto una tirata ai loro poveri figlioli lo fanno perché non è sempre... poverino mio figlio ha preso tre ha preso tre, amica studia, capita quindi 100 giorni, sì devo dire che la priorità vengo da Ro e da Buenos Aires se stamattina Milano, Piazza Firenze, la gente ovviamente mi chiede di intervenire sugli stipendi sulle bollette, sulle tasse, sui mutui, non su altre filosofie adesso ci sono i telegiornali, anche stasera vedrete il TG1, il TG2 ci sono gli anarcho-insurrezionalisti che minacciano la rivoluzione perché non è giusto dare l'ergastolo a chi è in galera per quello che mi riguarda, se uno ammazza uno, due, tre, quattro, cinque persone sta in galera finché capta appunto perché non è... butta via le chiavi quindi con tutto rispetto per tutti e per carità di Dio però questo lo applicherò anche quando metteremo mano al nuovo codice della strada perché è vero, come ministro di infrastrutture, penso alla Lombardia stiamo sbloccando opera attesa da anni la Vigevano Malpensa, la metropolitana che va verso la Brianza la Bretella in Valtrompia, i ponti sul Po, il ponte della Becca quindi le ferrovie, poi però anche ieri, anzi anche stanotte stragi, ragazze e ragazzi che a migliaia perdono la vita ogni anno sulle strade, le autostrade quindi un conto è sistemare le strade più moderne noi stiamo lavorando uno sul fronte dell'educazione stradale portandola sui banchi di scuola ma sul serio, non per finta per mezz'ora all'anno magari dando ai ragazzi e alle ragazze che a 15, 16, 17 anni frequentano davvero la lezione di educazione stradale qualche punto in più sulla patente per invogliare poi però oltre all'educazione serve anche la sanzione e se ti metti a guidare drogato, ubriaco marcio e ammazzi qualcuno tu la patente non la devi più vedere per il resto dei tuoi giorni perché vuol dire che non hai la coscienza questo, un po' di regole, un po' perché la vita è una non ti danno la seconda o la terza stipendi in questo mese di febbraio grazie a voi che avete tenuto duro però dopo mesi di fatica finalmente le bollette scendono del 30% e per la prima volta l'abbiamo messo in manovra economica le pensioni minime e gli stipendi più bassi fino a 25.000 euro aumenteranno come non era un ammuntato in passato quindi giù le bollette su non tutte ma una parte delle pensioni e degli stipendi l'obiettivo è quello di entrare in sempre più case degli italiani l'autonomia da questo punto di vista fa bene io spero che questa stramaledetta guerra finisca il prima possibile perché non se ne può più e sicuramente non è con un'apparizione a Sanremo fra i cugini di campagna, Giorgia e Marco Mengoni che si sospendono i bombardamenti però è un mio punto di vista non so se avrò tempo di guardare Sanremo se avrò 10 minuti per guardarlo però guardo qualcuno che canta non qualcuno che fa altro quindi questo però apro e chiudo la parentesi domani sera faccio gli auguri a tutti gli interisti il derby è già vinto ragazzi non c'è neanche bisogno di giocarlo il derby è già vinto noi milanisti siamo rassegnati un po' come il PD alle regionali in Lombardia insomma partecipi per partecipare però dai un sorriso chi? il Milan? mai dire mai signora no il Milan il derby lo può vincere il PD le elezioni no questo è poco mai sicuro comunque dai un sorriso al sabato al quinto incontro si è consentito l'ultima riflessione lo dicevo Fabrizio innanzitutto grazie permettetemi di dire grazie e l'applauso fatevelo voi perché fermarvi con un bel frecce un sabato sera così in tanti a Legnano mi dà e ci dà una forza incredibile quindi grazie a tutti voi grazie grazie di cuore perché non è scontato noi potremmo avere le idee migliori al mondo però se fossimo qua da soli invece vedere tanta gente che si ferma durante il passeggio è qualcosa che ci dà forza secondo cosa potete fare voi? dammi il volantino questi nel senso che io fra Roma Milano oggi ero poi Inzago poi Palazzago poi sarò a Lainate poi insomma le giriamo io sto facendo sopra luoghi cantieri caserme scuole tribunali metropolitane ferrovie rotonde autostradali anche perché ogni cantiere che sblocco non è solo un po' di sicurezza per gli automobilisti in più ma è tanto lavoro per gli operai a me portare a casa lo stipendio per un operaio per una donna o per un uomo per me è importante quindi lo sto facendo con assoluto entusiasmo vedrete che nelle prossime settimane grazie al nuovo decreto sulle ONG anche i confini italiani torneranno a essere protetti dagli sbarchi perché non se ne può più non se ne può più e lo dice uno che per averlo fatto va a processo però io ci vado a testa alta un po' di gire di balpe confesso però perché una volta al mese andare a Palermo sul banco degli imputati per aver fatto il mio dovere mi sembra però comunque mio nonno mi diceva male non fare paura non avere quindi andiamo avanti abbiamo cominciato da tre mesi sono contento per carità miracoli non ne facciamo in tre mesi e non siamo dei geni e non siamo infallibili però devo dire che ho trovato una squadra di governo compatta coerente dobbiamo evitare di abboccare qualsiasi polemica e soprattutto a sinistra se ne sono resi conto noi andiamo a governare avanti non per cinque mesi ma per cinque anni costi quello che costi cinque più cinque come gli affitti sei più sei brava a proposito a proposito di affitto oltre il codice degli appalti che stiamo cambiando del codice della strada dal mio ministero dipende anche il settore della casa ed è uno dei temi su cui lavoreremo perché ormai prendere una casa in affitto soprattutto a Milano e provincia a Ro Legnano Milano costa un occhio della testa quindi nell'arco dei cinque anni se il buon Dio me li darà un nuovo piano casa per mettere a disposizione migliaia di case per chi non può permettersi un affitto di mille e mille e cinquecento euro al mese è qualcosa che vogliamo portare a casa e sulle case popolari ovviamente continuare a sgomberare quelli che non hanno diritto di occupare una casa popolare al posto di chi la sta aspettando da tempo e questo per rispetto quindi abbiamo un po' di tempo a voi cosa potete fare? da qui a domenica prossima a parlare perché se fate un esperimento stasera se siete a cena con gli amici con i parenti con i colleghi o domani a pranzo qual è il problema? che scommere grandi televisioni tranne chi è qua oggi non stanno parlando del fatto che a Legnano si vota domenica prossima voi fate l'esperimento perché io sono convinto che se fermate dieci persone adesso lungo al viale o in farmacia o in panetteria o da intimissimi o tezzeni poi sono belle vetrine però qua ci sono cose però se chiedete a dieci persone scommetto che cinque diranno ma perché domenica si vota? abbiamo già votato abbiamo votato a settembre abbiamo già vinto le elezioni perché c'era Salvini a Legnano? cosa succede? cosa si vota per il comune per il condominio Occio? perché la regione è quella che si occupa degli ospedali della salute delle tasse dei treni dei trasporti delle case dei rifiuti e quindi perché secondo me le grandi televisioni nazionali ormai è quasi una certezza perché è settimane che non parlano del voto in Lombardia e nel Lazio perché come i sondaggi li vediamo noi li vedono anche loro e quindi siccome la Lega e il centro-destra sono in vantaggio di dieci quindici venti punti e la sinistra e la Indre cosa staranno pensando? meno ne parliamo meno gente vota meglio è e meno ci facciamo male quindi io posso andare da Vespa dalla Gruber da Porro da Del Debbio da chi volete voi però io ho bisogno che voi in questa settimana parliate con amici colleghi parenti conoscenti in classe a scuola in azienda con qualche volantino perché sicuramente a Tiglio Fontana domenica prossima vincerà sicuramente il centro-destra vincerà però per fare quello di cui parlava Fabrizio scuola disabilità autonomia aprire cantieri e bloccare gli sbarchi dei clandestini più forte è la Lega più forte è la Lombardia quindi viva Legnano viva Milano viva la Lega e grazie a tutti voi per essere stati qua forza Legnano e forza Milano Forza Liga Forza Mati Forza Mati Forza Liga Forza Mati Forza Mati Grazie.